Inizia la stagione turistica e la stagione appunto dedicata ai balneari, il rischio e la preoccupazione che abbiamo ascoltato nelle giornate scorse e anche nella giornata di oggi, la voce diretta di qualche gestore degli stabilimenti è quella di un turismo low cost che invade le spiagge puntualmente, anno dopo anno purtroppo con questi pullman che arrivano e scaricano le orde di turisti. Ma tu ti sei già pronunciato, vogliamo ripetere quanto hai detto e le soluzioni che pensi di poter trovare e il modo per applicarle. Sì certo, abbiamo le idee molto chiare, le avevamo messo nel nostro programma elettorale quindi devono diventare da subito realtà, ci siamo già attivati nei confronti anche della vicina Laigueglia perché dobbiamo coordinare questo tipo di intervento, l'intervento sarà una super tassa di 500 euro per ogni pullman con l'obbligo di scaricare in un certo posto dove ci sarà anche la possibilità di parcheggiare i pullman quindi questa tassa corrisponde all'obbligo di scarico di queste orde in una zona particolare quindi non potranno più fermarsi sul territorio e questo ci sarà un grande controllo della Polizia Municipale per evitare che vengano scaricati nelle zone vicine alla spiaggia sarà in una zona lontana dalle spiagge e quindi già disincentivante perché queste persone si portano dietro frigoriferi, attrezzature per le grigliate e quant'altro, non lasciano un euro sul territorio comunale e oltretutto creano disagio nelle strutture balneari libere perché si ubriacano, fanno risse, è una cosa che fanno musica incontrollata perché noi siamo per la musica, siamo per la movida ma quando c'è questa maleducazione a questo punto non ci sta bene quindi non era assolutamente razzismo, sono persone degnissime ma vogliamo evitare che vadano a intasare gli spazi già ristretti delle nostre spiagge noi spiagge libere non ne abbiamo tante e queste spiagge libere devono essere riservate ai turisti e ai cittadini residenti che non vogliono andarsi a pagare un servizio nelle spiagge a pagamento. Come lo realizzeremo? Con un'app dove si potrà pagare questa tassa questa tassa che abbiamo individuato in 500 euro e questo costituirà il visto di ingresso nel territorio del comune di Alassio per questi pullman turistici ma dovranno in cambio potranno avere un'area di scarico di queste persone e il parcheggio riservato in un'area predisposta per il parcheggio dei pullman che non sarà comoda, non sarà Madonna della Guardia voglio dire però non sarà sicuramente comoda per l'accesso alle spiagge. Con questo criterio vogliamo disincentivare questo tipo di turismo ci sono tante spiagge, come dicevo, ripeto ancora, non siamo razzisti ma pensiamo che la spiaggia di Alassio non può sopportare l'invasione di questo turismo low cost che soprattutto non porta un euro alla nostra città e crea solo del disagio. Ci sono tante spiagge in Liguria, vadano da altre parti. E proprio per questo l'intento è quello di fare un intervento diciamo coordinato con lei quelli anche perché molto spesso questi pullman si fermavano proprio al confine tra le due cittadine e lo scorso anno il sindaco Maglione aveva provveduto, diciamo, aveva cercato di provvedere chiudendo magari le spiagge in determinati orari. Questi provvedimenti per quanto riguarda Alassio potrebbero essere appunto presi in considerazione o meno e quali sono i rapporti con il sindaco anche di Liguria, Roberto Sasso del Varo. Credo che con Roberto ci sarà una grandissima collaborazione, tant'è vero che il comandante dei vigili della Polizia Municipale di Alassio si sta già attivando nei confronti del suo corrispettivo dell'Egueglia per organizzare un'azione comune sia in considerazione della tassa sia in considerazione di tutte quelle opere che dovranno essere messe in atto, più che opere di azioni di prevenzione e di controllo che dovranno essere messe in atto per regolamentare questo tipo di turismo che, come ripeto, ad Alassio non porta un euro. E quindi è chiaro che i due punti dove si concentravano questi arrivi sono la spiaggia libera prima della massicciata verso il porto e le spiagge libere tra Alassio e l'Egueglia. E questo è un problema che stiamo coordinando con l'amministrazione dell'Egueglia e collaboriamo in maniera eccezionale. Con l'amministrazione dell'Egueglia collaboreremo per tante altre cose e ci dobbiamo vedere mercoledì a cena per parlare di altri problemi. Oggi la campagna elettorale è finita, io sono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, il sindaco di L'Egueglia è un sindaco della Lega Nord, fino a prova contraria siamo alleati del centro-destra e quindi basta con queste stupidaggini, andiamo avanti e lavoriamo.